Nave spagnola, no a Malta, no alla Spagna, no alla nave militare spagnola, al di fuori di ogni limite, di ogni regola e della dignità anche degli ospiti, due dei quali in galera, 44 dei quali spariti, ma nell'aula bunker del Tribunale di Palermo, dove si sono celebrati i processi di mafia, c'è il Ministro che ha ripreso il suo Paese e ha salvato le vite. Questa è la piccola storia di quello che sta succedendo.